Ciao sono Maria Teresa D'Ambrosio, consulente immobiliare di Remax Stella Polare. Oggi mi trovo nel quartiere Libertà, precisamente in via Ricciotto Canudo, una traversa di via Napoli. Ci troviamo alle porte della città di Bari, a due passi dalla fila del Levante, siamo vicini a lungomare. Che dire, è una zona super servita, ma il valore aggiunto di tutto questo è l'appartamento che oggi vi mostrerò. Siamo in quello che consideriamo il diamante nel mercato immobiliare, precisamente siamo in un attico. A questo punto voglio chiedervi, vi piacerebbe abitare in uno degli attici più belli di questo quartiere, ma posso anche dire in uno degli attici più belli della città di Bari? Mi sa che la vostra risposta è sì, quindi non ci resta che andarlo a vedere insieme. Accomodiamoci, andiamo! Benvenuti! Grazie a tutti! 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 le vostre telefonate per vederlo insieme!